Eccoci qua con Greta Dami, prima cosa, prima di iniziare l'intervista, congratulazioni per l'esordio settimana scorsa. Grazie. È stata un'emozione particolare? Una grande emozione, soprattutto, vabbè, poi l'esordio ti rimane, no? Comunque è venuto in uno stadio bellissimo, un velodrome in Francia, che era pieno di persone, 20.000 persone, per cui è ancora più bello, incontro soprattutto una squadra veramente forte. Anche se sono stati cinque minuti, sono stati emozionanti. Stadio di Barsiglia, tifosi caldissimi, forse più caldi di Francia. Ecco, passiamo all'attualità, parliamo di campionato, torneremo in campo questo sabato, però parliamo un attimo della distanza della squadra dalle vette in classifica, perché sono 14 punti dalla capolista Juventus. Eh sì, purtroppo la prima parte del campionato non è andata bene, lo sappiamo, e ormai però diciamo che è andata. Ora abbiamo questi punti di distanza, ma noi non ci dobbiamo pensare, dobbiamo concentrarci a noi stessi, su noi stesse, per fare meglio nella seconda parte del campionato. Sabato abbiamo l'ultima partita d'andata e vogliamo finire bene per poi cominciare ancora meglio. Cerchiamo di fare più punti possibili in questo mese, per anche riprendere un po' di morale, per ritrovarci e rifare bene anche contro le grandi. Restano 12 gare alla fine del campionato, nulla è impossibile, comunque basterebbe un passo falso della capolista o comunque di quelle che sono sopra, Brescia e Tavagnacco, e non perdere soprattutto. Sì, ma noi comunque, come ho detto, dobbiamo concentrarci su noi stesse, perché comunque penso che il giro è andata, sì, sia andato così, anche perché loro hanno fatto benissimo, ma il problema siamo stati noi, che abbiamo fatto male troppe partite, troppi pareggi, per cui il problema è quello, non dobbiamo pensare agli altri, ma dobbiamo pensare a noi. Invece, relativo al prossimo turno, ci saranno le cugine, sarà il derby toscano, ci sarà l'Empoli, ecco come viene vissuto, c'è rivalità, c'è tensione? C'è rivalità come ogni altra partita, poi sappiamo che è il derby e soprattutto sappiamo che giocheremo contro alcune ragazze che giocavano con noi, per cui sono partite un po' strane, però non ci cambia niente, non andiamo lì per fare bene e fare i tre punti. Sì, sono tante le ex, tra cui Giulia Orlandi, se non sbaglio, e comunque altre. Tornando a questa capolista Juventus che sembra abbia ammazzato il campionato, partite dal ruolo compressore, per esempio la gara contro il Brescia a seconda è finita 4-0, insomma la prima che batte la seconda 4-0 sembra quasi imbattibile, però nella gara in cui ha visto contro di loro a Torino in trasferta nell'anticipo di venerdì io questa supremazia non l'ho vista, insomma potevate riagguantarla quella gara? Sì, penso che lì si sia vista una Fiorentina un po' diversa dalle altre partite e penso che ce la siamo giocata quasi alla pari, poi è finita 2-0 e per cui non ci è girata molto bene. In ogni caso sappiamo che non è una squadra veramente imbattibile come può essere vista. 4-0 contro il Brescia non lo so, ci sta, però comunque avendoci giocato contro, avendo visto e conoscendo comunque anche le ragazze sappiamo che ce la possiamo giocare alla pari e anche qualcosa di più. Ma ce l'hanno secondo te qualcosa in più? No, secondo me no. Tornando alla nazionale, voi ragazze della Fiorentina Women sono orgoglio per il paese, per Firenze soprattutto, perché guardando la linea da 4 di difesa della scorsa partita, 3 erano ragazze della nostra Fiorentina. Sì, mancava solo il centrale, poi per il resto erano tutte fiorentine e devo dire che hanno fatto veramente una grande partita, ma sappiamo benissimo, l'anno scorso comunque non l'abbiamo dimostrato che siamo forti, l'abbiamo dimostrato e anche e soprattutto la difesa con i pochi gol che ha fatto. L'attacco ne ha fatti tantissimi, la difesa ne ha subiti pochissimi, è solo quest'anno che dobbiamo un po' riprenderci, però noi sappiamo la nostra forza. Che città è Firenze, non solo per il calcio femminile, per il calcio in generale, per lo sport? È calda, si sente la vicinanza della tifoseria, della gente? Sì, è molto calda, sono molto vicina alla squadra, sia in positivo che in negativo, però questo credo che possa fare solo bene. e poi vabbè noi lo ricorderemo sempre, le 8.000 al franchi che sono venuti a tifarci nell'ultimo campionato in casa dove poi abbiamo festeggiato lo scudetto e noi speriamo che ogni partita, ogni domenica ci siano vicini così tanti perché ne abbiamo bisogno sempre. Che Fiorentina sarà in questa seconda parte di campionato, in queste ultime 12 gare? Speriamo una Fiorentina diversa, speriamo che comunque noi ci stiamo mettendo tutta per ritrovarci, per riunirci, per giocare come sappiamo, perché non dobbiamo fare niente di più, noi non dobbiamo dimostrare niente, dobbiamo semplicemente essere tranquille, unite e fare il nostro gioco perché comunque ciò che dovevamo dimostrare l'abbiamo già fatto e noi ne siamo convinti della nostra forza, dobbiamo solo poi metterla in campo quando scendiamo il sabato. Per chiudere, un messaggio ai tifosi, a tutta la tifosoria, alla gente che vi segue e anche se vuoi alle tue compagne, nonostante tu ci parli già abbastanza. No, non lo so, ai tifosi vabbè è naturale che speriamo che ci siano sempre vicini, di starci vicino perché comunque anche se la prima parte del campionato è andata così comunque noi ci crediamo e speriamo che loro ci credano, non siamo a noi. Quindi questo, secondo i miei compagni poi le vedo sempre, non ho niente da dirvi perché stanno tutto. Sì, sì.